In attesa di novità in merito al futuro societario del Palermo, con il tanto atteso closing ancora non arrivato, in casa Rosa Nero è tempo di scegliere il prossimo allenatore. Attualmente sembra esserci una corsa a tre, anche se non sono da escludere colpi di scena dell'ultima ora, tra Baroni, Iachini e Sottil. Quest'ultimo però partirebbe più indietro nelle gerarchie e sebbene il futuro sembrerebbe essere lontano da Siracusa, sarebbe destinato più verso un'altra formazione di Lega Pro, piuttosto verso una che milita in serie B. Per quanto riguarda Iachini invece, quello del Marchigiano sarebbe il terzo ritorno al Palermo. Lui è un esperto di promozioni dalla B alla A, ne ha ottenute ben quattro, di cui una proprio alla guida dei Rosa Nero, nella stagione 2013-2014, subentrando a campionato in corso a Gennaro Gattuso. Anche per questo la formazione siciliana starebbe pensando ad un suo ritorno, ma al momento l'ex udinese, come ha dichiarato lui stesso, preferisce aspettare per capire che tipo di offerte riceverà. Infine Baroni, il tecnico protagonista indiscusso del miracolo Benevento, è entrato di diritto nel mirino di diverse società, tra cui appunto il Palermo. Zamparini in particolar modo lo vorrebbe alla guida dei Rosa Nero a tutti i costi, tanto da avergli offerto un biennale da 600.000 euro. La sensazione però è che Baroni non lascerà Benevento sul più bello e starebbe infatti discutendo del suo futuro proprio col patrono delle streghe Oreste Vigorito. Insomma, ancora tutto da definire in casa Palermo non solo in ottica societaria, ma anche in quella del campo, dove quello dell'allenatore rimane ancora un punto interrogativo.